Saranno molto presto tempi sempre più duri per i famosi ed inveterati furbetti del cassonetto indefessi nemici dell'ambiente dall'assoluta mancanza di una morale civica che continuano a dispetto di tutte le facilitazioni e possibilità che oggi si hanno per smaltire correttamente rifiuti di ogni genere ad abbandonare come carbonari nell'oscurità ogni sorta di scarto casalingo. A nulla per costor valgono le moderne applicazioni che Aset ha messo in campo come l'applicazione per i telefonini Juncker gestibile dal proprio device sempre che queste persone siano in possesso di una cultura e di un livello tale di conoscenze da poterle adoperare che consente di individuare e indirizzare di conseguenza l'utente su cosa, come e dove disfarsi del rifiuto. A nulla valgono le possibilità di conferire nei centri di raccolta ambulanti per la città, a nulla valgono il prelievo programmato direttamente a domicilio attivabile con una semplice telefonata. Ancora una volta registriamo un abbandono al suolo di un rifiuto ingombrante, ma questa volta non si tratta di mobili o materassi o altre masserizie, ma peggio ancora di un frigorifero con tutto il suo carico di materiali speciali da smaltire nell'ormai arcinota area dell'ex aeroporto, nei pressi del grande hangar e fa bella mostra di sé dove è stato lasciato. Un frigorifero è un rifiuto speciale che va smaltito in modo specifico, plastica, alluminio e soprattutto cosa ancora più nociva per l'ambiente, se non fatto correttamente, il gas refrigerante all'interno delle serpentine tipo freon, idrofluoro, carburi che se dispersi nell'ambiente sono altamente nocivi. Inoltre ci sono parti elettriche ed un compressore a bagno d'olio che anche questo, se dovesse fuoriuscire al suolo, creerebbe un bel danno ambientale. Ebbene, questo frigorifero, questo rifiuto ingombrante, questo rifiuto speciale è stato lasciato lì alla merce di tutti. In barba tutto questo, quindi qualcuno ha pensato bene di caricarselo in auto e anziché fare un chilometro in più ed andare al centro di raccolta differenziata dell'Aset in via dei Platani, ha pensato bene di andare lì e buttarlo in mezzo alla strada.